Siamo a Grosseto, cuore di Maremma, prodotti locali, acquisti felici, al via il progetto del comune di Grosseto, ci spiega tutto Carlo Sestini. Al via il progetto lanciato dal comune di Grosseto, cuore di Maremma, prodotti locali, acquisti felici, un nuovo obiettivo raggiunto dal tavolo di lavoro del settore agroindustriale alimentare nell'ambito del progetto Nucleo Fenice. Si tratta di un'opportunità di interfaccia tra produttori agricoli ed esercizi commerciali di piccole dimensioni, che sarà garantita dalle rispettive associazioni di categoria. I primi risultati importanti del tavolo del Nucleo della Fenice è il comparto dello sviluppo economico. Stamattina ho visto sedere attorno a un tavolo, ovviamente telematicamente parlando, le associazioni del mondo agricolo, rappresentate da CIA, Coldiretti e Confagricoltura, assieme alle associazioni del commercio, Confcommercio Ascom e Confesercenti, per siglare un protocollo, un accordo in cui si facilitino gli scambi commerciali di merce tra produzione primaria, produzione finita primaria e negozi di vicinato, negozi di prossimità della città. Questo ha lo scopo di enfatizzare il made in Maremma e superare insieme una crisi, creando per gli uni un ulteriore sbocco commerciale, per gli altri la possibilità di ampliare la già ricca offerta, ovviamente disponibile per chi voglia acquistare enogastronomia locale, gastronomia o proibatezze della nostra terra. Un grande risultato che ha avuto il suggello grafico con il logo Cuore di Maremma, che è il nome del progetto, da parte dello studio Calimero, che gratuitamente e volontaristicamente si è offerto per dare questo tipo di servizio. Un primo grande passo avanti per la rinascita e la ripartenza della nostra città di Grossetti.